Vittorio Bellone, sindaco di Favria, oggi siamo qui per l'inaugurazione della panchina rossa dedicata all'iniziativa contro la violenza contro le donne. Iniziativa importante, anche Favria ha deciso di aderire. Sì, un'iniziativa lodevole, iniziata con una partnership con i supermercati Conad, in particolar modo con il gestore di Favria che è Andrea Porro. È già dal mese di luglio che avevamo in mente di fare questa operazione, di fare questa iniziativa e oggi finalmente la inaugureremo nella giornata giusta che è una giornata in cui tutti dovremmo riflettere non su quello che diciamo ma su quello che facciamo per contrastare questi episodi di violenza che quotidianamente si verificano e lo vediamo tutti i giorni sui telegiornali. Oramai è diventata una piaga, quasi una guerra. Diciamo che appunto la giornata del 25 novembre è dedicata a questo argomento ma bisogna lottare e lavorare ogni giorno e lei sindaco è uno di quelli che è in prima linea proprio in questo senso. Ma assolutamente, siamo sempre stati molto sensibili, sin dal nostro insediamento abbiamo inaugurato la sede di un posto occupato in sala consiglio e proseguiremo con questa campagna sperando che prima o poi la gente cambi veramente mentalità. Fortunatamente sono una minoranza ma seppur una minoranza riescono comunque a commettere dei crimini atroci che causano ogni giorno delle vittime. Si parla anche del fatto che bisogna educare tantissimo i giovani quindi secondo lei qual è la strada che bisognerebbe intraprendere? Ma proprio a tal proposito oggi l'iniziativa ha coinvolto anche l'istituto comprensivo, anzi ringrazio la dirigente scolastica la dottoressa Miotti perché ci saranno, saranno presenti quattro classi delle scuole medie proprio per andare a sensibilizzare quelle che sono le categorie che un domani rifletteranno su queste giornate su questi momenti di riflessione che a cominciare da oggi abbiamo intenzione di attuare. In questo caso si dice sempre che bisogna fare il sistema anche tra le varie realtà del territorio tanti sono le iniziative in questi giorni che vengono realizzate. Secondo lei quanto è importante appunto anche la collaborazione con le altre realtà del territorio? Ma è importantissima, noi in questo caso abbiamo trovato una partnership con, come ho detto prima, con il supermercato Iconad e stiamo lasciando dei segnali perché sono quelli che dobbiamo lasciare dei segni quando una persona da domani entrerà nel parco, noterà questa panchina rossa e quantomeno avrà un momento di riflessione sul perché quella panchina rossa e da lì ricostruirà quello che è il significato di questa panchina. Andrea Porro, titolare del CONAD di Favria, avete aderito a questa iniziativa importante insieme al Comune di Favria, un tuo pensiero? Sì, allora, visto l'importanza di questo progetto, l'installazione della panchina rossa contro la violenza delle donne è stato concordato con CONAD insieme all'amministrazione comunale e anche con l'integrazione delle scuole e vista l'importanza di sensibilizzare a partire dai bambini piccoli, queste panchine sono già state installate presso la regione Piemonte 36 panchine, su tutto il territorio saranno più di 100 quelle che verranno installate anche successivamente. È un progetto molto importante, abbiamo deciso di inaugurare oggi la panchina, oggi 25 novembre che è il giorno dedicato contro la violenza sulle donne.